Ciao ragazzi e bentornati al mio canale, sono Dragongest e oggi 12 gennaio 2023 andiamo a vedere cosa c'è di disponibile nei negociati di Fortnite in primo piano in evidenza abbiamo il bundle Aurelia, poi Oro e quindi scendendo abbiamo Swift poi Sfonda Mandibola e ancora il bundle Rampino Galattico con Lottatrice Galaxy e poi la bregata Stendardo ragazzi dove possiamo personalizzare le magliettine con i colori del nostro Stendardo eccoli qui tutti quanti e poi le loro attrezzature con il mantello Stendardo e lo scudo Stendardo bello bello bello, scendendo nelle giornali abbiamo l'osco e poi la bellissima Vendetta una delle mie skin preferite e poi scendendo ancora abbiamo tutto il bundle Cloakim la moda U ancora presente, l'armadietto di Sparkle SQT e poi bundle offerte speciali di oggi dove troviamo i pack Lava e Magma, da me non si vedono ragazzi perché sono già in mio possesso, comunque prima di tornare all'inizio ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella, condividete il video con i amici e lasciate un mega mi piace, andiamo a vedere subito bundle Aurelia il pacchetto stupendo bellissimo Aurelia ragazzi capitolo 2 stagione 6 fa parte del set Vendetta di Mida con più stili selezionabili, lo stile Aurelia normale e Aurelia oro brunito e quindi il suo dorso decorativo oro sol e poi mazza frusto del tributo, lo strumento di raccolta che anche lui ha più stili selezionabili il bagliore si e il bagliore no e la copertura maledizione di sol e la schermata di caricamento tributo, andiamo a vedere il regalo per gli amici, qual è il prezzo giusto 2200 V-Bug per tutto il bundle ragazzi poi possiamo prendere Aurelia da sola 1500 mazza frusto del tributo, maledizione di sole e il bellissimo oro skin leggendaria ragazzi con più stili selezionabili, re dorato, senza bagliore e re scheletro il suo dorso decorativo manto radioso con più stili selezionabili, re dorato, senza bagliore e re scheletro 2000 V-Bug per portarci questa skin leggendaria a casa e poi abbiamo il Deltapano Skeletron 1500 V-Bug più stili selezionabili, re dorato, senza bagliore e re scheletro, ancora una volta scendiamo ragazzi andiamo a vedere Swift costume da 1200 V-Bug capitolo 2 stagione 1 topo di strada il set di cui fa parte il suo dorso decorativo è la lanterna del ratto ed eccolo qui Swift bellissimo ragazzi da me già in possesso, bello 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 asce fortunate lo strumento di raccolta del set topo di strada capitolo 2 stagione 1 500 V-Bug ragazzi e ce lo mettiamo all'interno del nostro armadietto Ratti la copertura da 300 V-Bug capitolo 2 stagione 1 300 V-Bug ragazzi ed è nostra bellissima sfonda mandibola ragazzi stupenda quasi quasi oggi la faccio mia poi il suo dorso decorativo unità di contenimento bella 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 ragazzi davvero mi attira capitolo 2 stagione 1 giudizio finale definitivo il set di cui fa parte bella 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 sticker lo strumento di raccolta da 800 V-Bug capitolo 2 stagione 1 belli 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 questi coltelloni tornavo giù indietro e via bando rampino galattico prima o poi dovrò prenderla vabbè non mi fa però impazzire più di tanto però è particolare mi piace costume leggendario lottatrice galaxy e il suo dorso decorativo mani galaxy ed ecco qui strumento di raccolta lame di stella galaxy e poi la copertura vortexual 2500 V-Bug ragazzi per questo bundle il dorso decorativo mani galaxy è reattivo alle eliminazioni ragazzi bella 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 e poi lottatrice galaxy da sola 2000 V-Bug lame di stella galaxy a 1200 e vortexual 500 V-Bug per portarsi questa copertura a casa e bundle standardi audaci 2000 V-Bug per portarsi tutte e quattro queste skin a casa dove possiamo cambiare lo standardo vedete voi se ne vale la pena secondo me ne basta una ragazzi indietro e abbiamo la controparte maschile anche qui 2000 V-Bug mastino anche qui possiamo cambiare la magliettina tramite colori e standardo ragazzi magliettina e cappello belli 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 vedete voi se ne vale la pena 2000 portarsi tutti e quattro ripeto per me ne basta uno bundle attrezzatura standardo ragazzi bellissima copertura standardo capitolo 2 stagione 2 brigata standardo il dorso decorativo lo standardo mantello e quindi ancora un altro dorso decorativo lo scudo standardo e questo qui si può personalizzare benissimo ragazzi e poi emblematico 1600 V-Bug per tutto questo bundle vediamo c'è anche un emote sbandieratore stupenda anche questa qui e il deltaplano incrociatore personalizzato tutto il bundle a 1600 V-Bug non male come prezzo non male e poi abbiamo la possibilità di prendere tutto in modo singolo quindi secondo me conviene che scegliete quella che vi piace più di tutte da 800 V-Bug ragazzi e poi standardo mantello non so perché mi viene la D mantello dorso decorativo l'emblematico a 500 il mantello a 400 lo scudo a 400 lo sbandieratore a 500 il deltaplano a 500 e la copertura a 500 ragazzi e emblematico il strumento di raccolta a 500 scendiamo e abbiamo lo sco bellissimo da me già in possesso 800 V-Bug ragazzi ed è vostra la prima apparizione stagione 10 vendetta stagione 10 ragazzi bella 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 fa parte del set giri al minuto 1200 V-Bug è una delle mie preferite il suo dorso decorativo guscio spinato terapia della danza l'emote da 800 V-Bug stranissima secondo me comunque c'è a chi piace e a chi no stranissima bella 800 V-Bug ed è vostra twist 500 V-Bug per queste emote della stagione 5 è tutta questione di fianchi fuori di testa emote non comune da 200 V-Bug stagione 7 abbandona ogni certezza e poi abbiamo in ultimo il deltaplano raro occhioni ciao ragazzi prima apparizione stagione 3 torniamo indietro scendiamo e siamo arrivati a tutti i bundle che già abbiamo visto nei giorni scorsi che trovate all'interno del mio canale ragazzi siamo arrivati anche al bundle offerte speciali della epic nessuna novità o almeno non per me c'è il bundle lava e il bundle magua vedete voi se dovete comprarli oppure no io per oggi ragazzi ho finito per quanto riguarda il video è tutto mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella condite il video con gli amici e lasciate un mega mi piace ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao